ciao ciurma benvenuti dallo youtuber più veloce del mondo dico subito che effettivamente questo video lo sto registrando per non so quale volta forse dal mio inglese ma perché siccome non ho tempo di ritare come non stupito sto rifacendo il video sempre che è peggio comunque un appunto super girl è una serie che secondo me sta migliorando chi in chat mi dice secondo me su sta esagerando con i voti qui e lì ragazzi sappia che non mi interessa nel senso che io mantengo le opinioni voi mantenete le vostre fino a quando le esprimete in maniera corretta e rispettosa sono comunque contento di leggerle ed è possibile che a volte io cambi la mia idea ma è molto complesso ecco per l'appunto quindi comprendete le motivazioni per cui io ritengo super girl migliorata e arrivata ad un livello decente per il momento per il momento i fulchi della puntata comunque andando alle cose serie sono tre rapporto padre john johns e johns cara morel e per finire rapporto lina reino più auto introspezione di sam allora partiamo da cara morel i due finalmente riescono ad arrivare ad un punto d'incontro perché cara si sfoca grazie a quello che provoca il padre di john johns e tira fuori anche se in maniera magari esagerata tutte le opinioni che aveva su morel anche durante il loro rapporto e si rende conto che forse la loro relazione non era perfetta come pensavano e di conseguenza ha pianto un qualcosa che le piaceva così tanto perché evidentemente l'aveva troppo romanzato quindi anche un atto di realismo rendersi conto che forse il loro rapporto non era così eclatante da farla piangere per tutto quel tempo un passo in avanti per cara un atto di maturità ed anche un qualcosa che può rendere la loro relazione migliore e la serie tutta meno premia di eventi e situazioni un attimo spiacevoli e troppo teen quindi bene andiamo avanti due possono combattere fianco a fianco come eroi legionario e cara e super sono veramente contento quindi di questa di questa di strattamento che hanno dato a questi due personaggi perlomeno in questa puntata anche il fatto che combatta con il mantello è molto fumettistico veramente molto fumettistico e siccome super è la serie più fumettistica va bene che ci sia è più realistica quindi va bene così vestiti intelligenti perfetto e diverte è interessante può essere un ramo sempre più contro lei ma può essere comunque secondo me la parte meno interessante della puntata il rapporto di jean jean spaldri fa passare un importante messaggio prendiamoci cura dei nostri genitori quando diventano troppo anziani o dei nostri nonni come loro ci hanno cresciuto quando non comprendevamo il mondo quando loro non lo comprenderanno più noi dobbiamo aiutarli è il nostro dovere è un messaggio che troppo spesso è trascurato e che super fa passare veramente bene ed è veramente un qualcosa di fondamentale perché va bene la trama che è centrale va bene la recitazione e la regia ma è anche importante cosa passa dal film senza filosofeggiare senza trovare roba che non esiste attenendosi ai fatti quello che veramente ci comunica e in questo caso credo che super fa passare appunto questo importante insegnamento come dicevo troppo spesso lasciato nell'angolo in diversi prodotti più che altro pesa però il fatto che vengono fuori mille mostri pesa il fatto che se ci siano queste battaglie si ben coreografate ma che non sarebbe una nulla se non allungare il minutaggio e aggiungere un po' di spettacolarità alla puntata stessa non fanno male ecco però appresentiscono il contenuto e minutaggio rallentandolo forse oltremodo a contempo quindi però appunto la relazione in sé per sé tra padre e figlio funziona per quanto le varie sfaccettature con le quali l'hanno messa in piedi forse non del tutto ma non ci fermiamo qui non ci fermiamo qui perché adesso ci spostiamo su un altro concetto essenziale ovvero il rapporto che vige tra Lina e Reign quindi un altro momento fondamentale della puntata soprattutto perché Reign riesce a comprendere che è il cattivo in quale si voglia essere tv il momento clou di un personaggio con la doppia personalità è quello in cui si rende conto di chi è perché poi generalmente nel finale della battaglia finale della stagione lui o lei riesce a far emergere la sua parte positiva e a vincere lo scontro con il male che l'altanaglia e credo che questo accadrà grazie a Ruby sul finale di stagione abbastanza letto ma non necessariamente brutto visto per quanto scontato certo si poteva fare qualcosa di più originale ho detto a Nable non mi ha entusiasmato come regitazione e parlo proprio come sapete bene di lei, di Reign, l'articione che la interpreta però comunque sia non mi è dispiaciuta mi è piaciuta Lina sia come interpretazione che come personaggio perché in questo modo riesce anche a investire un ruolo nella stagione che altrimenti non avrebbe avuto Lina se ci fate caso prima di entrare nel vivo di questa storia con Reign era legata al personaggio di Edge e quanto erano brutte quelle puntate? ma tantissimo perché Lina veniva snaturata come personaggio adesso invece è coerente con se stessa una persona buona che aiuta chi ne ha bisogno specialmente chi le è vicino e anche quando ha un colloquio con James è interessante perché James anche qui acquisisce appunto un ruolo che altrimenti non avrebbe per nulla nella stagione perché Guardian è svanito nel nulla perdonate la ripetizione della parola nulla però riesce a sostenere Lina e anche a comprendere che a volte non può rivelare tutti i segreti altro insediamento importante che passano riuscire a comprendere l'altro anche quando è complesso amarlo a prescindere d'accordo? per quanto magari due non sia meno ancora ma sta nascendo qualcosa di importante come la stessa Lina ha detto anche lì telecamera lontana che le riprendeva da una posizione veramente distante sembra una balalata quella che dico non so usare i termini tecnici perché non sono un registro qualcuno che studia regia però porca puttana noti che comunque sia un'inquadratura particolare che fino a quel momento in Supergirl o in qualunque altra serie CW difficilmente è visto questo per farvi notare per l'appunto la bellezza del compatto tecnico che come dicono in molti effettivamente supera la media in Supergirl ancora non è finita qui perché c'è un altro punto essenziale Pestilence giunge o comunque si comprende che è arrivata vista la morte dei due uccelli a fine puntata una buona trovata devo dire un piccolo cliffhanger di puntata non troppo pesante ma ci sta bene e quindi riesce a dare quel pepe in più che servirebbe che serve alla stagione stessa anche questo capire che sia Pestilence adesso perché io credo che sia probabilmente un volto abbastanza conosciuto o un attore che conosciamo quindi un attore ben diciamo che spesse volte abbiamo visto sullo schermo oppure differentemente un qualche personaggio che abbiamo già visto in Supergirl o che ha le sue stesse fattezze sarebbe veramente una buona idea quindi vedremo cosa accadrà vedremo alcuni ipotizzano sia cara alcuni ipotizzano che sia qualcun altro e ancora qualcun altro io notizie ufficiali non le ho lette magari ci sono in quel caso avvertitemi nei commenti perché me le sono perse quindi devo dire che in tutto sommato tenendo conto dei vari fattori anche delle interpretazioni che secondo me funzionano bene quella di Cara quella del padre di John Jones che ritengo veramente un bravo attore come sicuramente anche abbastanza John Jones come Chris Wood che interpreta Monelle che forse il migliore o comunque uno dei migliori sul set a mio parere come Winnie e Alex e poi come ho fatto notare nel corso della recensione ogni personaggio ha importanza James un po' di meno purtroppo malà lo stesso quindi bene sono contento tanto di cappello una puntata con un buon 6,5 o 7 a mio parere anche qui non do di più perché ci sono alcune cose come ho fatto notare un po' monotone che sono un po' delle ripetizioni con dei dettagli differenti ma sono comunque delle ripetizioni però Supergirl è migliorata rispetto ai primi tempi all'inizio di questa stagione che se non fosse stata per le 2-3 puntate iniziali ha fatto pena fino alla decima quindi speriamo che continui così che migliori che non abbia un finale scontato soprattutto non brutto perché scontato può essere a volte anche bello l'invito a passare da Supergirl Italia Serie TV link in descrizione pagina che tratta meravigliosamente la serie omonima poi potete fare una donazione se volete che leggerò poi nella prossima live per supportare il canale miglioramento audio e video saranno utilizzati unicamente per questo per fare un bel salto di qualità e chiaramente pagina e link pagina e perdonate il canale di Time Titans così come la mia pagina edsi Comics Italia tante pagine tante cose su cui potete seguirmi tutto in descrizione se avete anche un like chiaramente e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto un saluto dal vostro capitano Bandana che spera di non avervi interiato lasciate un commento e ci vediamo noi più tardi con Lucifer grazie a tutti